e ciao ragazzi oggi vi porto un video incredibile su ipixel qualcuno ha scritto perché hanno scritto mario? io l'ho scritto chi è mario? I defend great cosa potrebbe fare un livello di ipixel? Diggli di andare per i diamanti sta arrivando a segretare dai eh c'è un blu aspetta un secondo ma stai dando una mano? lo faccio per voi ok dietro è aperto rompilo lo rompo da davanti l'ho trollato ah ok va bene lo stesso dietro l'ho già aperto ah ma quanto hit ma questi cosa sono? no i blu no si va dei rossi dei rossi dirò se siamo noi no i rossi siamo noi mi spiegate perché non sono con voi in team eh ogni tanto il party lo fa così ah non sei con noi in team ma dai si ma tu con chi sei? ti ho rotto a me è nei verdi dobbiamo andare da chi dobbiamo andare? ai blu ed ai gialli? tanto il mio letto è stato distrutto quindi ah eri tu lo scarso che ho passato cos'hanno i blu? non hai una tnt non ce la fai con questi blu dai guarda stanno piazzando tutto davanti stanno piazzando tutto davanti attento 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 attentissimo eh vieni? si si fai team fai team wow come l'hai stato? come l'hai stato? bravo guarda oddio troll ti sta volendo a prendere ti sta volendo a prendere se li tieni un po' rompilo sii lol 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 ma quando? ma da dove? c'è la lenzo da sopra c'è la lenzo da sopra c'è la lenzo non solo a destra? no blu dentro col buco blu dentro col buco con pochi cuori dentro dentro col buco rosso ti prego devi metterlo è stato bellissimo quanti cuori fa? l'hai lasciato con due cuori tre tre no uno uno clina piavo va no blu è stato bellissimo dopo te l'hai invito su tele grazie allora mi avete lasciato tre vivi qui uno è possibilmente hacker uno possibilmente è hacker perché sai cosa ho fatto? sono andato da sopra mi sono chiuso solo che quello mi aveva visto entrare solo che non mi sono chiuso uno non so se me ne siete accorti gli avete dato tre sparate e non si è mosso poi è stato un ottimo incantato si è tolta mi sa e ha ricominciato è questo reboshi che ha non lo so allora uno ha blu di lato non so chi mi sa mi sa dai no mi si ha trollato male io lo ho detto no raga sta prendendo si si sta facendo un teletrasporto della madonna prima l'ha fatto non so guarda ho una freccia ho una freccia è visibilissimo mi sa ah no ha una spada in mano quello acera ci sono si che è acera si che è acera acera te lo dico io che è acera no è appena morto allora quando muore quando muore non si sa come piazza una tnt nel punto esatto in cui muore cosa che non si potrebbe fare si che si può si chiama final kill comunque fidati quello acera è la mia final kill quella non volevo dirti come la tua final kill addirittura è la mia final kill si secondo me fai più danno con la spada ravvicinata che a piazzare la tua tenete ma non l'ho piazzata capito vai ali mi fiderò di te e dei due nabi in maniera tale che magari vinci me ne sono ancora eh lo so ti sto guardando da fantasma lui l'ho visto muori dai ma guarda come le sp... ecco tu vanno a casa c'è questo lard che non ha fatto niente tutta la partita immobile chi? lard dai dai che muori non capito guarda che skin che c'ha primitabile leggi lo skin di lard no raga mi togli tantissimo con quell'arco oddio che cos'è questo lard oddio è uno che non fa niente questo qua mi regala frecce grazie sembra il fratello scemo di null fai il muro alto treale così la smette a me sembra il fratello scemo di null di null lui si è suicidato no sta continuando a sparare contro il muro anche se te ne sei andato non ti sei accorto nel minimo momento lui perché lui può... adesso puoi andare al centro ok ora se ne è andato puoi andare tranquillamente quanto sta durando sta partita? tu quanti kill e final kill hai fatto? io ho una di due kill boom io ho fatto 3 kill e 0 final kill si è andato a fuoco da solo occhio solo dietro ok non ce ne sono è questo qua quello che dicevo che prima non si era mosso poi si era disattivato da solo questo è un fenomeno comunque lol 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 ok rimango un pro di giallo allora i gialli vado a vedere come sono messi oh meno male l'hard è morto allora uno con l'arco è dello stesso quello che ha l'armatura inferno invece l'altro è il solito nab con la spada in diamante che ho deciso prima ci vai il grinder non è messo male quindi si vuoi aspettarlo Alev usa i silvefish no 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 akera no ok ha preso il primo vuoi prendere i silvefish secondo me si è buttato non lo so non l'ho visto l'ho killato con l'arco va ci questo sta buildando non si accorgi no questo è con noi ok no tipo quell'altro dei gialli che è rimasto sta buildando eh l'hard ha l'estato non si è manca accorto che boh vabbè sembra nabbo andiamoci attivissimo attivissimo no prima l'arato prima l'arato con la spada in diamante lui era quello in pietra ma lui sta fuggendo non lo so spara lì perchè sta fuggendo perchè vedi boh sto bogosaurus c'ha culo e boh in pratica lui lo so dietro di te praticamente ha la parola auras nel suo nome quindi lo devo rispettare è un dinosaurio occhi dietro occhi dietro dietro guarda se tu leggi nel suo nome c'è scritto auras con una s vai blu li butto su tutti i ara vai blu il nostro compagno è nabbo non ce la faccio no vabbè te l'ho detto io non ce la faccio c'hanno troppo culo allora sono dei mi hanno fatto a decidervi no perchè ho una parola data perchè sono camperoni ok ora so più coi tetto qualcosa mi dice occhio arriva al blu quello lì la lagga tantissimo guarda quanto lagga ci sta aiutando non so perchè che sono dall'altro lato della mappa ma va bene perchè hai fatto mi hanno fatto il ponte troppo basso il letto dei blu è bellissimo è scoperto quasi dai ci vado io bravo ci sono anch'io ci sono anch'io dimmi quando arrivi eh il blu me li ha tancati se mi fai sto mondo vero ho usato il blu per predisposizione guarda come escono tutti guarda io ho fatto una final kill otto kill è un verde di destraire no ok ho rotto un blocco allora i verdi sono messi malissimo non so come va gli ha rotto un blocco al blu i rossi sono messi benissimo i verdi invece no dai arrivo con la tiglia l'all e poi c'era la tua testa stortissima no la testa è dritta sei tu che sei io vi sto aspettando io sto arrivando eh no la tex con questa questa tex vai 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 uccidilo vai arrivo io non se ne accorge si si tranquillo vilda 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 vai 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 beh ale vai eh no 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 son caduto è caduto anche lui però non l'ho fatto per lui vabbè lui ha tempo di rispaunare rotto bravo no anzi prendo un pc come si chiama questo? questo non so come lo sto chillando a due di vita si mister pistacchio ce l'ho fatta uoh ho mezzo cuore rimane rimane un grigio eeeh i rossi che però hanno una bardatura estrema mi riportano sicuro a vedere da com'è con gli uchiillagi anche io bella vai vai blu cattivo prendiamo anche l'icefish dai sono preso giusto il piccone sta arrivando oh l'ho trovato vai oh 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 vai non esplodere what uoh piccone legno ma stai laggando tu o cosa no ha tirato una laggata assurda tipo ci ha spinto vi sto aspettando vi aspetto vi aspetto perché da solo muoio sei morto io no io sì aspetto non aspetto ok dai blu ecco te li tanco te li tanco beh il ponte potevi farlo aspetta ci sono anch'io ci sono anch'io ci sono anch'io ci sono anch'io io spostati vai così che si tanca guarda cattivissimo va vieni ah perché così ho piazzato il gol ma allora se no no raga voglio fare una figa salta sopra il gomme spostati 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 vado con la tnt vai vai c'hanno l'arco cos'è sta cosa perchè mi hittano da qua vabbè tanca continua a tancare va bene vai blu mettila qua veloce ho messo esattamente nel posto dove andava messo no rompi blocco no vabbè e ce l'ho il piccone ma ti levi vabbè dai niente bene ah qua ti banca sei forte vado dal mezzo tanto sono tancando a laterale sei fortissimo per me è uguale tanchiamo dal diamantale è blu è blu è blu potete lancare da dove volete l'importante è che tanchiamo ok no 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 dai perchè cado sempre sto laggando sto laggando ma lagga un po' il server mi sa rotto sto laggando io o sto laggando il server rotto tranquilli non c'è problema non c'è problema ho capito ma il server sta facendo schifo un po' magari un po' ma di sera è sempre così boh non ho mai notato il stra difficoltà dove è finito l'ultimo è probabilmente andato debolo è sul ponte dei cosi vado a prenderlo dall'altra parte po' l'aveva anche l'arco ah c'è l'arco allora guardami non so che Ale guardami sono di nuovo sul ponte io non ho fatto nulla spero che abbia 9 ma tu continui a laggare no no io sto laggando da mezz'ora cioè a volte mi riporta a volte no ogni volta che cade ti ributta dov'è? dov'è? stavo cadendo ogni volta ogni volta no ma qualche volta mi riporta su non capisco il perchè ah forse ho capito dov'è è la in cima a ca raga mi state mi state sabotando la terza volta che sto per cadere secondo me è la in cima a ca qualcuno di voi l'x-ray per vedere ah si l'ho visto eccolo guarda è lì grazie ho appena finito di dirlo e lui mi ha buttato giù per te all'arco 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 occhio dai no puoi uccidermi all'arco? ok 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 sono vivo ho un'idea cerco di tankarlo raga io ho messo la tiena e ti riocchio boom vai cattivissimo entra ruba la final no l'è mia dai me l'hai rubata se lì ah si sono prima l'ho rubata e lì quella è rapida però ah ok si l'hc dovrebbe essere mi spiace no stavo dicendo c'è sto già registrando per fare tipo per fare tipo i montaggi dalle di quando rompi i letti così no ok mi hai salvato però se ninja abri giù non so perché ho meno drop che alla fine non posso non posso non posso se fai così alle non ce la faccio mi spiace rimani via posso più vorrere ahn raga sto laggando non riesco a nemmeno camminare non riesco mai a camminare dai 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 vai poti calma tu adesso cosa facciamo prima Sì, ne sto uccidendo uno Ok, vai Vai, vai, ne uno dietro Non riesco a salvarti Vai C'è un nostro compagno che sta rompendo il ponte, non so perché Perché ha paura dei verdi Coprimi, coprimi, coprimi Vai, bella Ho ucciso i verdi Vai, vai, vai No, no, no Ti salvo, ti salvo Ti rubo la palla Dai, papi, erda Questo è arrivato qua Questo è Akira Va bene Ok L'ultimamente l'ho lasciata perché mi sono caduta le cuffie No, non mi è, non mi è attaccata Arrivo Io ho tenuto i blu e i verdi, quindi ora I gialli, i gialli, andate dai gialli Sì, sì, vado dai gialli ho il piccone OP Hai il piccone OP? E ho le posizioni, aspetta Io ho il piccone BUS Allora io bardo Cioè, non è quello OP Una bardatura creativa Suggerimenti tipo un cubo di rubik Dai Il giallo si vuole divertire Guarda, guarda, come sta? Guarda, guarda Io spero tu muoia Così vedi la mia bardatura Attivi Guarda Bam L'hai visto come la trova? La veri creativa Sì Guarda Ammo blu quando fa veri C... Bam Hai una voce adatta a queste cose No, blu mi ha fatto cadere Ti piace? Perché... Adesso dico... Ti piace? Guarda che cuore Ti piace il mio cuore Sì, l'ho finito L'ho finito io Grazie Veri cuboso, vero? Adesso questo qui è Ebo Io sto andando a preparare una cosa per Alessio Se muore Non so, non so che di artistico Blu, devi andare all'attacco ora Posso fare l'Enderter Posso fare l'Enderter Eh, dai a me? Blu passa Devo fare una cosa per i nostri compagni Questo ci sta trollando Sì, sì Oh, lascio così qua Grazie Non so se ce la faccio solo con questo Quanto... Quanto ci hanno? Perché blu ha stato la sua voce da registrazione? Sembra stare distranno Ti porto un piccone Blu sta registrando, vero? Ok, dovete distrarti, però Allora, fai schifo nell'animo Sattelo Grazie Non tu, non tu Quello che mi ha trollato Ma io ero figlio Ma scusi Come bravo? Sei cattivo Io sono i semi Io sono un tuo fan Sei cattivo Questo rispetto a quelli che fan Che ti danno i money Money grab Money grab Io odio quelli che ti insultano Perché tipo È la connessione schifosa È la connessione schifosa No, ma tu devi scrivere i commenti Tipo No, no, devi scrivere i commenti Non sei capace di fare le bad words Perché non riesci un po' a sbrigare Perché non riesci a fare neanche 20 CPS Io sto laggando Sto molto laggando Sto molto laggando Sto laggando Questo qua mi abbi Stronzo Vabbè dai Il rosso Questo sta venendo al centro Un rosso che corre shiftato È vero? Sì Tu sei senza l'armor invece Vabbè dai È quello che cade là sul ponte Lo vado a prendere da dietro Ora che mi picchia l'arciere Sono già in fondo Questi hanno fatto una cacca di sabbia In poche parole Ho giusto l'arciere Voi da sopra Vado a trancarti Vai rompo il letto io Non ci preoccupare Pronto Ti ho lasciato uno Con pochissima vita Ho usato una magia Belbursosa E mi sei andato sopra Quanti ne sono rimasti Uno con sette di vita L'ho trollato Siccome non ho blocchi Distruggo il blocchi Come faccio? Allora io non faccio niente Ma sono sempre il top kill Perfetto Allora io non faccio niente Allora io non faccio niente